Bentornati, siamo sul lago Trasimeno. Oggi vi racconto una storia di passione, amicizia e divertimento. La storia del raduno nazionale 1Turbo Club Italia. Due giorni, due tappe. Castiglione del Lago dove aspettiamo l'arrivo di tutte le 1Turbo in vista del raduno effettivo il giorno seguente ad Arezzo. Abbiamo fatto un casino... ... 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